l'arte dei missili se la russia ignorasse l'arte dei missili se l'america ignorasse l'arte della nato se l'europa ignorasse l'arte dell'ubbidienza se i governanti ignorassero le omelie infarcite di bugie non si farebbero più male e le guerre resterebbero chiuse ad ammuffire negli archivi della storia commento se l'umanità avesse raggiunto questa evoluzione non sarebbe più terrestre